Ciao benvenuta o benvenuto, se vuoi imparare ad attivare e a sentire il flusso della tua energia vitale scorrere e fluire nelle mani e nelle braccia allora questo è il video giusto per te, perché oggi ti insegno una procedura specifica derivante dal nostro metodo di Qigong terapeutico che ti servirà proprio ad iniziare ad accrescere la percezione e a stimolare il flusso di Qigong nelle braccia e la cosa più bella è che si tratta di una procedura che si può svolgere in pochissimi minuti e che quindi potrai fare liberamente anche nei momenti liberi durante la giornata se ancora non mi conosci io sono Alex Recchia, nella vita faccio l'insegnante e il formatore di arti tradizionali orientali insegno alle professioniste del benessere delle operatrici olistiche come integrare il Qigong terapeutico in studio per insegnarlo e trasmetterlo ai propri pazienti, clienti o riceventi per aiutarli ad accrescere la loro energia vitale a prendersi cura di sé, ad ascoltarsi e quindi a risolvere più velocemente le loro problematiche questo lo faccio tramite una scuola di formazione professionale con percorsi online, certificati e protocollati per l'apprendimento a distanza la cui efficacia è dimostrata dalle innumerevoli testimonianze presenti sia qui sul nostro canale che su tutte le nostre altre reti sociali se tu che stai guardando questo video sei una persona che parte assolutamente a zero con poca o nessuna esperienza nell'ambito del Qigong e nessuna qualifica nel mondo olistico benessere ti avviso che all'interno della nostra scuola c'è una grandissima novità perché abbiamo da poco introdotto e protocollato un nuovo percorso chiamato Professione Qigong dove ti accompagniamo nell'arco di un anno di lavoro assieme a passare da zero all'essere un praticante, un insegnante Qigong terapeutico riconosciuto e qualificato per fare del Qigong la tua passione e se lo vorrai anche la tua professione a questo proposito non posso assolutamente non consigliarti di iscriverti alla nostra Cinews una newsletter esclusiva che ti darà continuo accesso a materiale esclusivo come un mini corso gratuito dedicato all'elemento fuoco e l'elemento terra e tutto quello che ti occorre per proseguire il tuo viaggio insieme a noi e al nostro metodo didattico di Qigong iscriviti trovi il link qua sotto in descrizione la prima cosa che ti chiedo di fare è di porre le braccia in questa posizione come se tenessi una sfera tra le mani una delle cose più importanti da fare se vogliamo iniziare a stimolare la percezione e il flusso energetico nelle braccia è aggiustare le articolazioni le articolazioni sono degli snodi importantissimi che se sono rigide, bloccate o se la spalla è troppo spostata in avanti allora in questo caso il flusso di percezione e il flusso di energia fatica a passare, ok? allora quindi cosa facciamo? con una mano ti aiuti a regolare la tua spalla cioè aiuta la spalla ad andare bene indietro e giù rilascia bene la scapola dentro la struttura la spalla si rilassa completamente ora aiuta il tuo gomito a rilassarsi poni la mano nell'incavo del gomito il gomito si arrotonda l'articolazione si apre e si rilascia ora poni la mano sul polso il polso si arrotonda la mano si arrotonda molto bene sentirai ora già che c'è una percezione nettamente diversa tra un braccio e l'altro a livello qualitativo intendo e visto come bastano dei piccoli aggiustamenti a livello strutturale già solo questo per poter accrescere qualitativamente lo stato proprio di benessere e di percezione energetica in questo caso in un braccio quindi facciamo anche nell'altro braccio questa procedura aiuta bene la spalla a entrare bene dentro la sua sede a mettersi bene in linea va bene indietro e giù poi poni la mano nell'incavo del gomito l'articolazione si rilascia il gomito si arrotonda e la stessa cosa per il polso molto bene queste braccia ora sono leggere morbide connesse come giovani rami di un albero ora gradualmente poni le dita delle mani a contatto tra loro in questo modo chiudi gli occhi e ascolta le tue braccia poni proprio l'attenzione e la percezione nelle braccia adesso visualizza nel mentre che inizi a separare le mani tra loro visualizza dei cavi dei fili luminosi che connettono le dita di ambe e due le mani puoi sentire questa energia circolare tra le dita di ambe e due le mani la puoi vedere la puoi visualizzare sono come dei fili luminosi o dei cavi luminosi che connettono le dita delle mani tra loro e ora espandi le mani ed espandi la tua percezione energetica non dimenticarti di respirare mi raccomando adesso gradualmente riporta di nuovo le dita delle mani a contatto e di nuovo le apri e le separi non perdere la percezione e non perdere la visualizzazione rimani ancora qualche secondo in questa posizione mantieni la visualizzazione di questi fili e di questi cavi luminosi che connettono le dita e ascolta il fluire delle percezioni dell'energia all'interno delle braccia hai creato un circuito bioelettrico di energia che scorre da un braccio passa dietro nella zona cervicale nell'altro braccio e c'è proprio una connessione energetica poi rilascia delicatamente le braccia e lascia fluire la tua consapevolezza lungo tutto il corpo ti rinnovo e mi invito a iscriverti alla nostra Cinews una newsletter privata che ti darà accesso ad un mini corso gratuito bellissimo dedicato all'elemento fuoco e all'elemento terra dove tra l'altro affronto anche l'argomento del radicamento che è molto affascinante molto interessante e dove avrai accesso a tutto quello che ti occorre per proseguire il tuo viaggio insieme a noi al nostro metodo didattico di Qigong iscriviti trovi il link qua sotto in descrizione Grazie a tutti